Alberello di limoni Zio stava registrando E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dei minecraft Signori e signori oggi si accompagnava qui di costa Non è chiamata con me Il kit è morto Bella Allora c'è lo scasso a 100 Allora lo stavo dicendo Mettiamo a smacciucchiare tutta sta roba Ok dentro qui Oggi ragazzi ho trovato un'isoletta di slime Voi chiedete ma perchè l'isoletta di slime Andiamo all'isoletta Ok E abbiamo questo alberello Io lo spaccherò in questo modo In modo che ci danno tutti sti blocchi di slime Mannaggia la puttana Alberello di limoni Zio stava registrando Lo sapevo Così si arriva a limoni Io che ti ho detto che appena inizia a registrare Dai no 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 Ti stavo detto Ma ha premuto quel tasto che già c'è Costa Poi è arrivato di limoni C'è neanche ciò ragazzi Livoni Cioè te ne rendi conto quello che sta succedendo qua Costa Testarti i video e poi arriva gente No vabbè Comunque Torniamo a casa My point Casa Vai moda di tutta creativa rimontati l'albero Guarda Guarda che ti faccio Guarda che ti combino Però facciamo niente Però sono mezzo cretino Ora si plantano gli alberi Mi c'è la china Mi c'è l'acqua magari Lui è imparabile Vabbè facciamo gli slime Hai fermato la registra Ce n'è il dubbio Oh tutti quanti mo Che sta roba Ti faccio sentire No 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 Che mi danno il copyright Guarda senti Ascolta Mi danno il copyright Copyright Ok Ok ragazzi eccoci qua Dopo Dopo l'alberello di limoni Dopo cetrioli Pomodori Tutto quanto Siamo tornati qui No Allora continuiamo con la nostra Accora mi viene a mente Costa cosa ne pensi Costa Non farlo Dopo cetrioli Pomodori Lamponi Fragole Tutto quanto Possiamo continuare con il nostro video Allora Per quanto riguarda la nostra cosa Dobbiamo fare Che cazzo dovevo fare Scusate Non mi ricordo più Oddio Che cosa dovevo fare Costa Ho preso un albero Strano Magico Ok si L'ho preso quello Perché ci serviva Anche le string Prendiamo la trasmutacchia Poi dammi Per fare Repair Talisman E ci serve La paper Per la paper Noi ci abbiamo Le cacchie Da zucchero Ok Andiamo a mettere Nella trasmutacchia Questo Questo Due slime Che ti è morto Perché Ah Il mogis Come la faccio Vabbè Io posso far cosino Quaccimi Questo qui lo cuociamo Affanculo Questa non è Questa non è una cesta Ok Prendiamo Due cobblestone Ok Uno e uno due Ok Facciamo Col carci Coal Facciamo la Covenant dust Poi prendiamo Redstone Redstone E iron Uno e nella Crafting Un ferro Facciamo la Medium Ok Ok Poi con la Diamante Diamante E coal Facciamo la Questa cosa qua Facciamo invece la Uno Due Uno Due E tre Ok Con questo Ragazzi Lo mettiamo nel nostro Talismano Ok Ok In modo tale che Lo teniamo a Settiamo a mano L'inventario Qualcosa Tipo un tool Nell'inventario Guardate Si Auto Ripara Tra Non funziona Però per Questi Questi tool qua Della Megaloot Ok Tranne questi Piccone Fighe Questa Spada Non si Pereranno Mai Allora Per quanto Riguarda La corrente Clemiamo Le quest Ok Ah 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 Queste tre Uno Due E volevo fare Anche il Catalyst Ma non facciamo In tempo Ovviamente Quindi facciamo Covenant Dust Con Dello Stick Quindi Stick Stick Covenant Dust Facciamo Il Divining Road Lo facciamo Diventare Azzurro Ok E con il Blu Lo trasformiamo In quello Potenziale Do me Ok Ok Però Questo Bastardo Non mi ha fatto Non mi ha fatto Quell'altro Quest Allora Rifacciamo Ok La trasformo In quella Azzurra Perché l'ho Fatto troppo Veloce Raga Ok Ora Mi ha fatto Anche le altre Ok Poi Dovemmo fare Blocco Matera Scura Ma non Ce la Facciamo Volevo andare Per esempio Nei Macchinari Per i Macchinari Volevo potenziare Un po' Il corrente Ok Ok Ci siamo Quindi mettiamo via tutte le polverine Mettiamo la dirt Plantiamo Che Ricordo Non è la bomba Di CS Go Mi hanno rubato La Costa Mi hanno rubato L'alberello Ok Plantiamo L'alberello Che ricordo Nella bomba E CS E poi E poi abbiamo Un'altra cosa Quindi Cosa facciamo Vediamo Io direi Facciamo un po' Di corrente Allora Volevo fare Il plant Gutter Ok Plant Gutter Che si fa Con ste Porcherine Qua Che è abbastanza Semplice L'unica cosa che serve È la plastica Per fare la plastica Serve l'atex processing unit Ok Per fare questo Serve il machine frame Quindi Andiamo a prendere Un machine frame Quindi In Che ce l'abbiamo Ricordo che è vietato D'usare la La Trasmutacchia Per prendere Machine frame Ti ricordi Questo Costa Ti ricordavi Cioè Che l'avevo detto Io Se mi segui Il video Poi invece C'è Il gold Facciamo Due rondelle Di gold Ok E poi Che manca Tutto Insomma Ah no Latex Il latex Process Tutto Manca Vabbè Le ha Ma perché ha fatto Le rondelle gold Sono scemo Costa Costa Mi tenivano due lati Al posto Di Costa Sono scemo Non serviva Loro No Serviva No Serviva Il ferro Perché Dovano fare Questo Macchinario Due Rotelle Di oro Il basso Destro Non hai capito Costa Non hai capito Un cazzo Perché a me Serviva Questa Questo macchinario Mi serve Vedi Mi sa che Mi sa che l'ha schiacciato La sinistra Ha schiacciato Il gutter Ok Ragazzi Quindi facciamo Una bella Fornace Che serve Per poi Fare le altre Robbe Di conseguenza Poi faremo L'altro Ok Manca La cobblestone Quindi andiamo Nella trasmutacchia E prendiamo La nostra cobblestone Così muoio Per fare le fornace Ok ragazzi Ho fatto le fornace Quindi vediamo Cosa può accadere Di conseguenza Abbiamo Abbiamo Il latte Che questo video C'è ogni tipo Di persone Entrate In questo Dobbiamo fare Questo video Si chiama Intrusi Quindi cosa 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 Abbiamo Latex Andiamo A piazzarlo Fuori Che di conseguenza Quindi Latex Poi serve Poi cos'è Il trifluid extractor Ecco qua Ecco qua Il trifluid extractor Che serve Per Estrarre il liquido Dall'albero Lo faccio più lungo Ma taglio le porti Allora Facciamo L'iron gear E poi serve La stonna E ho finito il call Fantastico Che poi Sono pirra Perché ce l'avevo Anche nell'inventario Allora Facciamo 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 Nucazzo Perché non c'è un cazzo Ah Che poi c'è la stonna Dimmi quando C'è La Allora Quindi Questo qui Ok Lui d'extrattor No no Non star a dire Adesso Allora Quindi Prendiamo Il legno Sei proprio peggio di Antonio Ok Quindi Prendiamo Oh cavallo Antonio Comunque Allora Quindi Prendiamo Il fluid Il fluid Reduct E manca Le head Ci abbiamo Uno E uno Due E E due 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 Ok Ok Devo Prendere Il servo Ok Quindi Ci serve Il servo E questo Non parliamo Ok Così Lo possiamo Prendere Sai che Il questo episodio Deve fare Maling Esatto Ma sai quante Editi Deve fare In questo episodio Ho detto Cacche Dello Piccolo Fanno le cacche Ok Questo qui Esce Ok Ci serve Il secchiello D'acqua Dovremmo avercelo Qualche parte Ma tutto questo Quanto Mi Dove 10 minuti 10 minuti Però Dobbiamo Minuti Non tirano Avanti Di mezz'ora Alcune Qua sotto qui Poi mi serve Mi serve Mi serve Dei flux Tut Ok 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 Quindi Io che ce lì Sottoterra Venite Oddio Però Quedotto Lo so Ma tanto Ben togliere Poi Perché Così Ne arriva Corrente Non Perché L'albero Non gli arriva E' un po' Un po' di Carone No Questo Questo è Stra Lo riceve Ora Forse 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 non è abbastanza Corrente Ecco Perché Sempre Nel mio senso Sempre pieno Non è abbastanza Non è abbastanza Non è abbastanza Comunque Sto pezzo di merda Do cazzo M'hanno rubato il generatore Allora Quindi Prendiamo il generatore Allora Prendiamo Ci serve La quest accumulator Copper gear Ferro Tin Allora Quindi Copper Un due Tre Quattro Poi Vetro E ferro Tin Allora Facciamo Così Prendiamo Questa Tac E facciamo Questa Ok Questa Per fare La quest accumulator Poi Facciamo Questo Qui Uno Due E tre Ok E questo Facciamo Allora Ci serve Un altro Secchio Che cosa Fa Questo Generatore Adesso Te lo Spiego Facciamo Qui Ci serve Una fonte Di acqua Capito Ok Tanto Poi Off camera Ingrandiamo Anche la casa Quindi Tranquilli ragazzi Lo faremo Con calma Quindi Questo qua E scoprò Sì 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 Ehi Vabbè Non mi ha preso Lago provvisorio Comunque Questo qua Ok Questo qui Lo piazziamo Sì E questo qui Ok Voleva riempirsi Ok Quindi Fluido Ok 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 Ero attaccato Perfetto Ok Quindi Ci serve Un servo Che ce l'abbiamo Fatto Craftato Ok Quindi Questo qui Che deve estrarre l'acqua E lo va a inserire Dentro qua Ok Ok Estrai sempre Infatti Il resto Control Ignored E da qua Vabbè entrare Ora che cosa 8 E 9 Abbiamo le dry rubber Ok Tutto che Man mano che rompe il legno Poi adesso sistemiamo anche tutto quanto Questo qui rompe il legno Perfetto Quindi Questo qua Fa il latex Il latex Esce Entra dentro qua Che fa tutte le Tutte cose dovute Quando finisce Quando arriva un tot Mi sembra 100 Adesso non lo so I tè di plastica Sarebbero Giusto Sarebbero pezzi Di 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 gomma Questi di gomma Li fai A 9 Non sono cuocibili Vediamo Non sono cuocibili Questo qui lo mette a cuocere E che cosa ci intropperà Niente Ci troppa Ci troppa La plastica Aspetta E' quello che Se ci pensi Costa E' quello che ci serviva Per fare il gutter Però ci manca Vedi che servono Le due cose di oro Servono per questo Ok Quindi Mi serve Due ashe E' un aratro E ce l'abbiamo Aspetta Questo Questa chita è morta Impariamo questi due Che sono fondamentali Ok Ci sei? Questo qui Ci serve Della legna Quindi cos'è che serve? Un ashe E' un aratro Ok Fai Questo qua Ci serve Della legna Ok Facciamo un po' di bastonciani Facciamo questo E ci serve Il machine frame Ok Con questo facciamo Il plant gutterer Ragazzi Quanto stiamo? Va bene Ragazzi Io direi che Termina qui l'episodio Spero che questo video Si è piaciuto Mettetele Like al commento Un saluto anche da Costa Un saluto anche da Costa Ecco Da casa Soprattutto Mettetele Like al commento Ascrivetevi al canale Soprattutto Se non mettete Like Ciao 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 Ciao